La lunga quarantena ha svuotato le città, ci ha costretti a casa, ma noi abbiamo continuato a lavorare con voi e per voi. 150 gli studi legali finalisti quest'anno e più di 500 i partecipanti. Punto di riferimento per gli avvocati d'impresa e dopo quattro edizioni di straordinario successo, stasera i Top Legal Industry Awards cambiano volto. Non spirito, espressione del desiderio e della volontà di ripartire insieme e in nome dell'innovazione tecnologica. Siamo pronti per vivere insieme a voi un grande evento nella sua nuova forma digitale e per la prima volta in diretta la quinta edizione dei Top Legal Industry Awards.